Il buon proposito è quello di recuperare i passi a noi fondamentali, è inutile che ogni volta che c'è una partita trovare delle scuse ma purtroppo Emiliano Coco e Lollo Brigida Andrea sono giocatori per noi troppo fondamentali quindi purtroppo hanno avuto degli infortuni. Emiliano credo di recuperarlo per lunedì prossimo contro la Venere, Lollo Brigida sta in fase di guarigione quindi sicuramente con loro due possiamo dire che possiamo provare una salvezza molto più tranquilla.